Ciao a tutti, oggi voglio provare a fare insieme a voi per la prima volta, quindi non l'ho ancora mai fatta e forse questo è un bene, perché di solito quando provo a fare una ricetta per la prima volta, riesce in modo comunque dignitoso poi ci riprovo una seconda volta il disastro, quindi sono fiduciosa che questo primo esperimento riesca voglio provare a fare una processata con un impasto un po' alternativo, in quanto non faremo la pasta frolla ma utilizzeremo semplicemente dei biscotti sbriciolati, vanno bene tutti i biscotti, anche quelli che ci avanzano in dispensa io ho preso dei semplici frollini al latte, dell'acce nero, quindi proprio delicatissimi, semplicissimi ma vanno bene anche i biscotti più saporiti, con i cereali, insomma, quello che vi pare l'importante è che siano sbriciolati ah, ovviamente tutte le dosi poi ve le scrivo giù nell'info box ovviamente e ho già preparato, anche se a vederlo fare è più semplice, ma comunque gli darò una sistemata la mia che è vegliata a 20-23 cm, ricoperta di carta forno, ma questo ci serve alla fine allora, intanto, in una ciotola, comunque in un piatto bello grande, vado a mettere i miei biscotti precedentemente sbriciolati a questo aggiungo la farina ovviamente io non devo mai avere in casa tutte le cose che servono perché la ricetta dice che occorre la farina 00 io non ce l'ho, ho solamente la farina di kamut che non so se possa andare bene lo stesso, però l'ho presa perché quando sono andata a fare spesa mi incuriosiva e l'ho voluta prendere quindi incrociamo le dita e speriamo che vada bene ma intanto io quando faccio io comunque dolci, io non ho mai, mai, nonostante comunque gli ingredienti, le cose me le segni, però io non ce l'ho mai tutti precisi, mai che vi devo dire, forse mi piace rischiare, non lo so comunque ai biscotti uniamo la farina poi così a occhio un cucchiaino di lievito per dolci ma si, abbondiamo e diamo una prima mescolata a tutti questi ingredienti si potrebbe tranquillamente fare anche con il mixer comunque con l'impastatrice però c'è proprio, diciamo, la ricetta dice che comunque non serve che essendo così tutto molto semplice va fatto così a mano e quindi noi seguiamo la ricetta ovviamente sono molto curiosa perché il risultato finale almeno a vederlo appunto dal sito dove ho preso da questa ricetta sembra interessante ma il mio non sarà così poi uniamo lo zucchero e a me piace utilizzare lo zucchero quello proprio super 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 fino perché non lo so, mi piace, mi piace di più mi sembra che, diciamo, si mischi con il tutto in modo più semplice poi ora dobbiamo aggiungere il burro completamente sciolto e io l'ho sciolto nel microonde questa forse è la parte che un po' meno mi piace della ricetta perché io non amo particolarmente il burro ma per una questione mia, diciamo, mentale non è che c'è un motivo particolare però vabbè ho deciso che la ricetta comunque la seguo così come è e quindi niente adesso amalgamiamo il tutto poi oltre al burro dobbiamo aggiungere anche il latte e proviamo a mescolare allora, ok, l'impasto è venuto come nel video adesso praticamente dobbiamo cercare di, diciamo, più o meno livellarlo mettendolo, insomma e dividendolo, diciamo, a metà metà lo dobbiamo mettere nel nostro stampo no, cioè alla fine ho lasciato la carta forno solo sulla base dello stampo e quella che avevo messo ai bordi l'ho tolta perché veramente era ingestibile e in questo modo mi auguro che comunque vada bene lo stesso anche perché comunque le pareti l'ho oriate poi comunque se andò a cerniera si toglie quindi secondo me tanti problemi non ci dovrebbero essere e quindi ecco qua ho compattato tutto e questo è il fondo della nostra bellissima crostata vogliamo stendere la marmellata sulla base ovviamente lasciando un po' di bordo io ho preso questa dell'arce nero biologica ai frutti di bosco ma ovviamente qui la marmellata è molto molto soggettiva e opzionale ovviamente prenderete il gusto che più vi piace perché non a tutti piace il frutti di bosco non a tutti piace la pesca l'albigocca insomma ognuno poi mette quella che vuole e questo credo che sia un'operazione comunque semplice che posso fare tranquillamente senza fare danni ecco qua e ora arriva la parte divertente adesso prepariamo la crema di ricotta e io non lo so ma credo sia veramente una vita che non mangio la ricotta che poi cioè è una cosa che mi piace anche questa è praticamente la ricetta dice 250 grammi di ricotta sgocciolata ma ovviamente che si prende dentro quella al banco del supermercato quella fresca perché questa non è affatto liquida comunque era una vita che non mangiava la ricotta quindi ho scelto di fare questa ricetta proprio perché c'è la ricotta che comunque mi piace ci raggiungo il il zucchero lo zucchero tutto questo zucchero penso che non lo mangio nemmeno in un anno ok e intanto mescoliamo questi due ingredienti e poi aggiungiamo un limone un uovo che io ho preferito comunque a sbattere prima di metterlo e la scorza del limone grattugiata anche anche qui l'uovo credo che sia una vita che non lo mangio anche perché sono intollerante ma per questa volta lo uso e poi anche un cucchiaino io faccio un pochino a occhio di estratto di vaniglia ok penso che sia sufficiente e niente mescoliamo tutto questo bell'impasto perché io poi ovviamente ho preso anche il piatto piccolo non lo so perché vabbè comunque c'entra e già questo è qualcosa quindi una volta mescolato tutto questo è facile capire cosa bisogna farci bisogna stenderlo sopra alla nostra marmellata una variante ho visto che è quella di utilizzare al posto della marmellata l'antella e ovviamente poi qui in questo impasto di ricotta se si usa la nutella non andremo a mettere comunque il limone che sarebbero due sapori che insieme non stanno assolutamente bene però non lo so io preferisco comunque la marmellata perché già per me tutto questo burro l'uovo già mi sconvolge per le mie abitudini questa è la nostra fantastica crema di ricotta che ora andiamo a stendere sopra alla nostra marmellata un'operazione che potrebbe sembrare semplice ma che fatta da me potrebbe essere anche alquanto disastrosa questo evito di farvelo vedere perché mi si rovescerebbe tutto ok adesso viene una delle parti un po' più complicate perché sarebbe quella di mettere la base di biscotto che era avanzata quindi la metà sopra ma ovviamente non va messa premendo perché altrimenti si creerebbe non un mappazzone ma peggio quindi questa l'ha messa proprio sopra così a mo' di polvere per capirci e quindi proviamo questa cosa mi terrorizza veramente proprio tipo così perché non sembra ma è un bel po' comunque per il momento sta procedendo bene più o meno questo è il risultato impostiamo il nostro time a 30 minuti e ci vediamo dopo io intanto nel frattempo che si cuoce sistemo tutto il casino di cose sporche e inizio anche a montare il video ho tolto la crostata dal forno quindi adesso la lascio raffreddare completamente e poi toglieremo la cerniera insieme e gli daremo il tocco finale perché manca ancora un piccolo step comunque cotta mi sembra cotta ovviamente sotto non posso verificare se sia cotta ma speriamo di sì il colore mi sembra bellissimo perché è dorato e abbastanza rosolato ma al punto giusto e quindi niente ci vediamo appena sarà fredda per tutto lo step finale adesso forse è il momento più delicato di tutta la faccenda perché dobbiamo aprire la cerniera e vediamo che succede allora più o meno diciamo a parte questo pezzettino che si è attaccato però vabbè e questo che si è staccato più o meno la crostata è integra adesso proviamo a metterla nel vassoio andato assaggio devo dire il sapore è buono come si fa presumo una roba del genere con rapidità io per il momento lascerei la carta forno per non smuoverla troppo e ora al posto dello zucchero a velo io ho pensato di metterci visto che la marmellata che abbiamo usato è ai frutti di bosco ho pensato di metterci il superfood questo il Berrylicious brand che è fatto proprio con frutti di bosco e ha comunque questo colore porpora che richiama la marmellata quindi secondo me è carino il problema è che è una polvere talmente sottile che anche con il passino comunque si creano dei mucchi magari con un colore più forte e mucchi con un colore un pochino meno forte comunque è una polvere abbastanza in sapore quindi è giusto un effetto più scenografico che altro e io direi che possiamo anche farla finita qui no manca l'ultima cosa importante il taglio mi armo proprio come se dovessi fare chissà cosa o tagliare chissà che cosa di importante però sono emozionata perché è carina e per me già vedere un dolce che all'apparenza è carino fatto da me è una novità allora il taglio è croccante fuori ovviamente ma molto molto morbida all'interno vediamo 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 tada oh guardate quanto è carina ci sono gli strati no vabbè non ci credo ma è carina si vedono tutti gli strati ok ovviamente ci vuole anche la prova assaggio proviamo temevo fosse troppo dolce e invece assolutamente no è davvero tanto tanto buona e ha un sapore molto delicato ricotta è fantastica perché è proprio quello strato morbido tra il sopra e il sotto che è fantastico buonissima veramente buonissima sono super super soddisfatta veramente non ci credevo e invece ci sono riuscita e questa fetta me la mangio tutta quindi se vi è piaciuta la mia ricetta ok l'ho un po' sbirciata su internet pollice in su se provate a rifarla ditemelo e sotto trovate i link per tutti i social soprattutto instagram mi raccomando seguitemi lì e iscrivetevi se non siete iscritti e ci vediamo al prossimo video ciao io intanto finisco la mia fetta di crostata ciao